San Benigno canavese, terra di storia, terra di fede, ma c'è qualcos'altro, è anche una terra di piccoli misteri, di piccole leggende che nei secoli o anche solo negli anni sono diventate importanti. Sul campanile c'è una leggenda oramai che prosegue che è quella della mano del diagolo. Grazie per la visione! Grazie a tutti!